ok questa sera proponiamo una bellissima partita entusiasmante sicuramente a mondiali fifa 2014 e qui con me c'è vincenzo vincenzo player bella a tutti allo stadio da dunas in brasile ora che vincenzo player propongono una bellissima partita a mondiali fifa 14 ciao a tutti ragazzi e oggi siamo in un nuovo video su fifa mondiali fifa 2014 brasile e niente ora giochiamo e vediamo come finirà che venga il migliore l'italia è orazio player e il facile l'italia si presenta a questa mondiale dopo la figuraccia rimediata in sud africa è passato difficilmente abbiamo sbagliato i due mondiali di cui l'avvento di solito così infatti speriamo che questo grande scatata appoggia la non c'è nessuna ricevere rimessa per gli avversari non non c'è nessun rinforzato non c'è nessun rinforzato non c'è nessuno che si presenta a questa parte ma la situazione è una palla il modello è una palla Nooo! Era una bella scena. In Brasile mi sembra un po' sottotono Vincenzo Plea, cosa sta succedendo? Eh, ancora... E' riscaldamento, riscaldamento, vedremo tra un paio di minuti. No, caspita, Marcello. Eh no, David Luiz. Vigano. E poi è un gioco, mi è piaciuto sempre. Non è tutto per il fascino che è mondiale. La giocabilità non è scarsa. Dalle mie amici, lo preferisco a prima 13. Lo preferisci il più bello secondo me. Sì, sì. E' così, tu sono 14. Perché qua si trovi... Il tuo tema è in presa sicuro. Tu c'è che ti piace, però guarda. Lo stessi che mi piace. Buono intervento. Possono ripartire dalla fascia. Marchisio. Qualsetta di tempo. Ruba palla sulla fascia. Alex. E' in gara di saltare l'uomo come pochi. Occasionissima... Vai Gigi! Ti ha tolto palla. Grande Gigi. Grande, grande, grande. Gosciglio. Il traversore non riesce a raggiungere i compagni. Giorgio. Giorgio, grande Giorgio. Il chiello. Lo qui ci sta. Immobile. Solo con la Juve sa fare certi passi. Vigiano. E perdono il possesso. Pallo degli. Riesce il passaggio. E continuo. Presa sicura del portiere. Il corpo. Pallo degli. Riesce il passaggio. E continuo. Presa sicura del portiere. Il corpo. Ed oltre. I troppo. Giorgio. Oltre. Giorgio. I do. 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 grande grande dai subito subito Verratti no no il Brasile colpisce no non colpisce Valodelli vediamo il Dio ma porca c'è la nostra ingria Andrea possiamo su contropiede è equilibrato ti penso che c'entrae in a Stato dove può essere il Brasile che non avrebbe no Giorgione da Silva Marchisio Ferratti L'Armer interrompe il gioco posizione regolare Pato Pirlo Cerca il gol 8 Gigi no il salvatore nooo nooo rigore no no ha peso la palla allora vediamo le play scusa non c'era quella roba allora ronaldinho batte ronaldinho la buffone aveva una scappa d'ingolore grande no gollasso scappa azzurra buffone scappa rossa come mai ha mantenuto la pretesa necessaria per la spallare da 12 metri è rimasto scambio un lavoro non c'era il portiere non poteva arrivare sti parte da 1 a 0 e già ora il suo player sa che quanto io faccio un call e poi mi gaso non so perché non c'è tutto me lo chiedo pure io guarda Gigi no no un altro riguardo no angolo ok c'è david luiz lui si gustavo lui si gustavo con la palla io la passo a Neymar Neymar finti dopo finti no recupera questo intervento sbaglia ma parla ancora di immobile 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 ma non puoi fischiare così non puoi beh il rigore Peppe sta facendo la differenza sì ma penso che l'abito abbia preso la decisione giusta abbiamo visto la fine primo tempo il contatto c'è stato 1 a 0 cercheremo di fare più gol adesso perché è stato un primo tempo un po' deludente da parte di tutte quelle squadre un rigore un po' fortunato dai ci sta si può dire tutto cercheremo di impegnarci di più e di segnare più no Martisio no Martisio ma che schifo ottimo tempo no non l'ha passata non l'ha passata e allora grandissimo e allora Dari Alves può correre e la passa Robinho 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 Chiello ancora Robinho Robinho può fare vedere tutta la sua velocità Robinho ancora Robinho Robinho la passa no e qui scatta il contropiede e qui scatta il contropiede no si 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 caga sicurissimo niente non fa segno non fai ridere che cos'è accaduto se l'ha fatto strano e l'arbitrore monisce pensava già di quella caga ma va caga allora lui spostavo vinta sbaglia allora ancora caga caga può fare vedere la sua velocità dai dai caga la passa Robinho Robinho è tutto solo ha ha un campo tira Robinho sono stato un po' incemo ma ok niente dai non hai trossato eh ho sbagliato vabbè no no caga travessa ma anche schifo fortuna travessa sfortunatissima niente ma si vede che l'Italia l'Italia è un po' sotto tono molto molto riuscendo a venire fuori ok allora Giulio Cesar per Luiz Gustavus Gustavo per no ho sbagliato non la volevo postare è Luiz Gustavo allora per sovarla Darbian Darbian la recupera mi scusa eh Darbian per Peratti Peratti la può crossare c'è Balotelli no non riesce non ha digno l'ora per Kakà Kakà di nuovo a quel valco può correre correre senza fermarsi corre senza fermarsi la dà la dà Robinho sembra la stessa storia di prima ancora Robinho adesso la crossa ha restato di prima gol Neymar e segniamo così vabbè recuperiamo forza ragazzi bisogna crederci fino all'ultimo mai smettere di lottare finché l'incontro non è finito che è successo eh Immobile ha fatto un falletto un fallaccio più di un falletto ancora Kakà può correre in quel valco sempre però Biglio ma cosa sta no tutto Decilio intercetta una bellissima palla e allora Balotelli per Immobile 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 sbaglia intercetta il passaggio e allora lui è tutto solo Robinho Robinho si deve smaccare il chiello no ancora no fallo non è facile smaccare il chiello il biscottino e Robinho ha avuto un avvertimento fatto un bruttino ho sbagliato ho premuto X e niente vediamo Danian ancora Danian e Marcello Marcello recupera palla una grande palla e può andare tutto libero va tutto libero Bonucci tenta ma niente niente da fare no non ha passato la palla Gigi ho sbagliato Han Gigi ancora ancora Kaka no stuzione no beh fisico ancora Kaka perde palla Marchisio Pirlo Pirlo per Balotelli Balotelli può correre Balotelli può correre ma ormai 5 minuti difficile che recupera Grazie allora qui fate il contropiede di lui si può perdere palla ero concentrato a fare il contropiede Pirlo Pirlo per Veratti Veratti ancora Veratti ancora Veratti per Immobile Immobile perde palla tira chi era Marchisio tira Alexander vado no sbaglio perché lo faccio troppo irritato quello che voglio fare si si ma l'ultima scelta l'ultima scelta l'ultima scelta l'ultima si sta spingendo di potere bisogna risultare quello siamo sotto l'avete capito chi è l'allenatore brandello cosa è successo e allora Robinho Robinho perde palla Robinho per Pato lui gustavo no significativa ma poco importante visto il risultato e il tempo a loro disposizione vittoria per il brasile va bene va bene questa è andata così ok ci vediamo da qui è tutto noi vi salutiamo e mi raccomando come sempre le parole dette spolliciate commentate condividete e non dimenticatevi di scrivere di iscriversi al canale mettete qualche commento cosa vi piace se voi siete forti a fifa non so cosa vi aspettate da questo canale cos'altro possiamo fare faremo oltre a giochi della playstation faremo altri video su argomenti diversi ma altrettanto entusiasmanti anche dei vlog faremo buona serata ciao a tutti grazie